Sì, pronto, non mi scassai che sto facendo un unboxing, ciao, ciao, ciao Ok I can't, I'm in the unboxing moment now Allora Sono andato da Crystal Per la modica cifra di 7 dollari e 58 Abbiamo Che palle, dai Che sto facendo un unboxing Allora, Crystal ha la particolarità Il logo è questo Ha la particolarità che Non ti da un panino gigante ma te ne da 5 Uno Due Tre Poi volendo si può scegliere, c'era anche quello da 4 paninetti che costava 5 dollari Io ho preso quello da 7 Ho bisogno di proteine Ah ecco Crystal Allora, vediamo questo qui com'è Facciamo Allora, praticamente dentro c'ha come un piccolissimo hamburger molto sottile con un po' di formaggio e un citriolo Che animale è? Che animale è? Buono Ma Sono tutti uguali? Come sembra Non dici quante calorie ha uno di questi? Secondo me ognuno di questi avrà 150-200 Purtroppo lo devo fare Allora, ci vediamo che sta freddo Oh Magico! Poi di contorno Qui Qui Cinque Di contorno C'ha un Un altro boxettino Patatine Al chili Enorme Oh Ecco Questi qui Sono patatine con il chili Si puccia formaggio Che fila Guarda qui Si C'è questo calorie ma come ridere Mmm 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 Non c'è Tutto vangolo lì non me l'ho dato Ma adesso di ketchup Faccio una ricerca veloce su quante calorie è sto piattino Allora, crystal Calories Ma intanto ne scarto un altro Mamma, mamma, mamma Allora, c'è, 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 c'è E non so qual è Allora, patatine col chili Nutrition È solo 570 calorie Ha questi hamburger piccolini Questi hamburger piccolini Detti comunemente crystal Addirittura c'era quello double cheeseburger che era più alto Famous crystal È solo 130 Allora, 130 Calcolatrice Allora, mettiamo una patatina Sono 30 per 5 Più 500 30 1180 calorie Più 100, dico 1200 calorie 1200 calorie si può fare Il mio budget calorico della giornata è 200 No, 2000 E 5 Quindi Si può fare Il cibo degli dei Bisogna avere sette mani per mangiare questo copo E che Sono colony lò lò e è bu è es bu el westi off gua X D Ah Hai allora primamente tutto ciao a tutti